La comunità di Montesano sulla Marcellana colpita da un'altra tragedia. Un incidente domestico è costato la vita ad un 68enne del posto, morto ustionato a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento. Il dramma si è consumato questa mattina in una palazzina di via Tempapilone, una zona della frazione Scalo dove l'uomo vedovo viveva da solo. Lascia due figli che vivono lontano dal Vallo di Diano. Sull'accaduto stanno procedendo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per accertare l'esattezza delle cause. Sul posto questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area la polizia municipale e i sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo pare fosse impegnato nel tentativo di accendere il fuoco del camino. Qualcosa deve essere andato sorto e le fiamme lo hanno investito non lasciando gli scampo e stendendosi poi al resto dell'appartamento. E' deceduto per le gravi ossioni riportate su gran parte del corpo. Molto provato il sindaco Giuseppe Rinaldi che commenta l'accaduto. Un'altra tragedia, dice seppur diversa da quella del piccolo Luigi, colpisce la nostra comunità un periodo molto complicato. Esprimo la vicinanza di tutto il nostro paese ai familiari per questo tragico incidente.